Musica Buonasera a tutti, buonasera dal TG Prato, controlli degli ispettori dell'ASL nelle aziende cinesi. Disco verde per il primo mese, il bilancio è stato presentato stamani in procura. Sentite Eleonora Barbieri. Sono 68 le aziende gestite da cinesi sottoposte a controllo dagli ispettori dell'ASL 4 nel mese di settembre. Il primo di operatività del progetto è un lavoro sicuro voluto e finanziato dalla regione toscana dopo la morte di 7 operai cinesi nell'incendio della fabbrica dormitorio del 1 dicembre scorso in via Toscana. Il bilancio di questo primo mese di ispezioni, che ha interessato anche Firenze, Pistoia ed Empoli, è stato presentato oggi in procura a Prato. Le ispezioni hanno riguardato 20 pronto moda, 45 confezioni, 2 stamperie e una stirreria. Soltanto 8 sono risultate completamente in regola. 6 avevano al loro interno dormitori abusivi, 2 cucine abusive, 26 impianti elettrici fattiscenti, 37 presentavano irregolarità nelle macchine utilizzate. Il lavoro di verifica ha prodotto 60 informative di reato e 60 fogli di prescrizione. Durante un controllo e in una confezione sono stati sorpresi al lavoro 5 clandestini e questo ha fatto scattare l'arresto del datore di lavoro per sfruttamento della mano d'opera clandestina eseguito dalla Polizia Municipale. 11 sequestri operati per abusi ed ilizi presenti all'interno, ma di questi solo 2 sono stati eseguiti dall'ASL, facendo leva sulla mancanza del requisito dell'abitabilità. Gli altri 9 sono stati effettuati dalla Polizia Municipale durante i controlli congiunti. Al momento ogni settimana vengono effettuate 10 uscite per un totale di 20 controlli. Dal 1 novembre si passerà a 25 uscite per un totale di 50 aziende controllate a settimana e di 600 in tutto il 2014. Le prime a essere controllate sono le imprese di nuova apertura, sia per dare un segnale, sia perché potrebbero nascondere precedenti chiusure strategiche. Le imprese gestite da cinesi che aderiscono al patto fiduciario per mettersi in regola saranno controllate per ultime. Attualmente sono 50 ad aver formalizzato la propria adesione, ma gli addetti ai lavori assicurano che la lista di chi ha fatto richiesta è piuttosto lunga. Considerando anche Firenze, Pistoia e Empoli, le imprese controllate sono state 170, di cui 27 in regola. 114 sono state oggetto di prescrizione, 99 oggetto di informativa di reato e 19 sequestrate. In tutto il 2014 l'obiettivo è di 1300 imprese controllate. E non sono mancati i commenti, sentiamoli. La vita è importante, no? Più di tutto il resto. Sono morte sette persone in un incendio. Siamo passati davanti al mondo come una realtà incivile, indegna della Toscana. Adesso se noi riuscissimo, nell'arco di un anno e mezzo, garantire che i lavoratori cinesi, in regola o non in regola, se scopriamo che non sono in regola, è obbligo perché siamo ufficiali di polizia giudiziaria, che si investa le forze dell'ordine perché intervengono. Ma vivono e lavorano in condizioni di sicurezza, le assicuro che sarebbe una rivoluzione. Così il governatore toscano Enrico Rossi ha commentato i primi risultati del primo mese di attività del progetto regionale Lavoro Sicuro. Soddisfatto, ma non del tutto, Rossi si è proiettato al termine di questi tre anni di controlli speciali per portare legalità e sicurezza nelle aziende cinesi, lasciandosi scappare un incitamento alla lotta operaia per la mano d'opera cinese sottopagata. Dopo aver garantito questa soglia minima, lo dico scherzando ma non troppo, grandi questioni che dovranno riguardare il salario, è giusto guadagnare 3 euro, un po' di lotta di classe anche dentro il mondo cinese non farebbe male, insomma. Quanto al rischio imbuto che si potrebbe creare a Palazzo di Giustizia con questa grande mole di lavoro a fronte di un organico amministrativo e giudiziario ridotto all'osso, la Regione ha ricordato di aver messo a disposizione della Procura pratese 7 amministrativi e 15 giovani del servizio civile ed ha aperto la possibilità di fare altrettanto con il Tribunale. Il Sindaco Bifonio ha rinnovato il suo impegno per chiedere al Governo il potenziamento delle piante organiche sia sul fronte della Procura che del Tribunale e ha aggiunto. Chi rispetta le regole sia rispettato a sua volta ma chi vuole stare nell'ombra, chi vuole agire senza stare alle leggi che ci siamo dati venga sanzionato. Precario, un figlio disabile, deve pagare 468 euro di tasi per una casa di 85 metri quadrati a Galciane e allora che fa? Prende carta e penna e scrive al Sindaco. Ho amaramente scoperto che oltre all'importo di questa tassa non abbiamo diritto a nessuna detrazione. Questo perché abitiamo in una casa relativamente recente e che quindi ha una rendita catastale relativamente alta relativamente ad altre abitazioni anche più grandi che però sono più vecchie oppure sono localizzate in zone diverse della città e ho scoperto che le detrazioni appunto sono basate solamente su questo parametro sulla rendita catastale che quindi, come detto più volte anche da vari politici e governanti è un parametro da rivedere in tutta Italia perché non è legato al vero valore degli immobili e quindi mi sono veramente stupito di non avere accesso a detrazioni per il mio nucleo familiare per i miei due figli per un figlio che risulta disabile per una malattia genetica per il reddito mio e di mia moglie che è relativamente basso perché io guadagno 1000 euro al mese come precario sono precario fino a dicembre ma moglie lavora due giorni alla settimana e appunto, data tutta questa situazione ho pensato di scrivere per chiedere se non era possibile fare diversamente ecco, perché so che come me tanti cittadini sono nelle stesse situazioni e ci troviamo a dover decidere cosa non pagare a questo punto se il mutuo, perché abbiamo anche un mutuo sulla casa fare la spesa, non so ecco, con una stangata così sinceramente non ce l'aspettavamo Scadenze tante che si accavallano è un'aspettavamo è un'aspettavamo grazie a tutti grazie a tutti